Voci.fm News, ultimissime dal mondo della voce. Ben trovati all'ascolto da Angelo Costanzo. Tutto l'Europeo, minuto per minuto, è l'appuntamento sportivo di Rai Radio dedicato agli europei di calcio 2021. Radio 1 e Radio 1 Sport trasmetteranno le radiocronache di tutte le partite in programma. Francesco Repice e Daniele Fortuna racconteranno le partite dell'Italia. Tornano anche le speciali radio-telecronache della Gelapas Band. Giorgio Gerarducci, Marco Santin e Carlo Taranto commenteranno in diretta le partite dell'Europeo su Twitch e sulla social radio RDS Next. È arrivata su Disney+, Loki, la nuova serie Marvel Studios. La voce italiana del Dio dell'inganno, interpretato da Tom Hiddleston e di Davide Chevalier, Owen Wilson e Mobius, doppiato da Francesco Perando. Arriverà il 21 ottobre nelle sale italiane Ron, un amico fuori programma. Nella versione italiana del film d'animazione, il protagonista, un robot difettoso, alla voce del comico attore e conduttore Lillo. Disponibile su Prime Video il film Fantasy Chaos Walking con Tom Holland e Daisy Ridley, doppiati nell'edizione italiana da Alex Polidori e Benedetta degli Innocenti. Nel cast del doppiaggio anche Alessio Cigliano e Chiara Gioncardi. Al via su tre mittenti radiofoniche locali, Radio Bruno, Radio Stella e Modena 90, la campagna Non Siamo Soli insieme contro le truffe avviata dal comune di Modena. Gli spot radiofonici si concentrano su alcune delle principali modalità messe in atto per raggirare le persone, in particolare gli anziani, al telefono per strada nelle abitazioni sul web. Nel corpo di Napoli è il programma di F2 Radiolab, la web radio ufficiale e laboratorio radiofonico dell'Università Federico II. Ogni giovedì gli studenti esplorano la storia della canzone napoletana con molti ospiti, tra i quali Maurizio De Giovanni, Peppe Barra e Marisa Laurito. È tutto da Angelo Costanzo, buon ascolto su Voci.fm Radio. Grazie a tutti.